primo classificato area comunicazione fundraising per la sensibilizzazione e l'impegno della veicolazione del messaggio sociale la promozione dello sport verso le persone disabili stiamo parlando di maria cristina ferrandini manager director della fondazione vodafone italia eccola qua per il progetto odo oltre ogni sport è in collaborazione con poli hub la fondazione ha svolto questo progetto ti lascio microfono raccontaci un pochettino di cosa si tratta abbiamo abilitato una piattaforma che oltre a voler essere uno strumento di connessione reale concreta delle persone al mondo dello sport soprattutto persone con disabilità abbiamo voluto anche come dire provare a gettare un ponte su quella che è la più grande difficoltà che persone con disabilità possono trovare nell'accedere al mondo dello sport ed è il tema economico quindi abbiamo aperto una piattaforma di crowdfunding all'interno della quale abbiamo però anche costruito una formazione in realtà anche in persona per insegnare per gli imprenditori di costruzione per le associazioni per l'associazione sì sì volevo dire questo in pratica favorite anche lo sviluppo dell'utilizzo della tecnologia correndo modo soprattutto al fine del realizzazione dell'obiettivo dell'associazione c'è la dove l'avviamento dello sport è l'obiettivo il poter accedere ai finanziamenti attraverso una piattaforma che è di crowd ovviamente facile per cui molto utile per loro per ora abbiamo raggiunto in 14 mesi 600 mila euro raccolti e quindi complimenti grazie ancora potete accomodarvi